Francesco, toglimi gli orpelli. Grazie Francesco, sei un maggiordomo impagabile. Infatti, altezza, sono anni che non mi pagate. E me lo dici solo adesso? Non lo savo. Corri subito dal mio segretario particolare, dall'amministratore e dal cassiere, perché ti siano pagati gli emolumenti. Grazie, altezza, vado e torno. Già di ritorno? Non sono mai andato. E perché? Perché il segretario particolare, l'amministratore e il cassiere sono io. E da quando? Da due lustri. E sono anche custodi, guida turistica, cuoco, sguattro e lavapiatti. Come mai? Il cumulo delle cariche è proibito. Ho fatto pure il cane da guardia per allontanare i creditori importuni. Poi, bontà vostra, mi avete esonerato. Per forza, non sapevi abbaiare? Piuttosto.